Don Giosuè Lombardo, oggi 14 ottobre, sesto anniversario della canonizzazione del Beato Vincenzo Romano, diventato poi santo. Ecco arrivano i suoni, le voci, i colori delle scuole secondarie di primo grado, le abbiamo in piazza tutti questi ragazzi, questi adolescenti che si sono avvicinati alla figura di San Vincenzo. E' bellissimo aprire così il sesto anno di ricordo della canonizzazione con i ragazzi, idealmente stiamo passando alle nuove generazioni questa fiaccola nel nome di San Vincenzo, rinverdendo le nostre radici, l'amore al territorio, l'amore alla città. Stasera poi avremo il Cardinale Sepe che è stato con noi a Roma sei anni fa all'incontro con Papa Francesco, poi il 21 a Napoli per la messa di ringraziamento insieme ai devoti di San Nunzio sul Prizio e poi il 21 ottobre qui, un ottobre dedicato a San Vincenzo. E poi stasera soprattutto dopo la messa avremo la processione delle reliquie del nostro santo parroco percorrendo le strade che lui faceva a piedi, arriveremo a via Piscovia a casa sua con le sue spoglie, attraverso via Teatro, poi faremo via Falanga e infine scenderemo a Costantinopoli per la preghiera dinanzi alla chiesa dei marinai Santa Maria di Costantinopoli. E' veramente vivo, è presente San Vincenzo in mezzo a noi, secondo me sta proprio muovendo il meglio della nostra gioventù, vedere anche ieri i licei che hanno fatto le visite guidate alla Casa del Santo, la rappresentazione scenica della sua vita in oratorio, consola molto il cuore. In questi giorni si è svolta anche la quarta edizione della Notte Sacra, un bilancio? Sono contento perché in tutte le manifestazioni culturali, musicali, tutti i momenti di preghiera sono stati coinvolti soprattutto una platea giovanile e questo è bellissimo. Per me questo è, tra virgolette, il frutto più maturo di questa Notte Sacra, l'incontro del parroco santo con le nuove generazioni. Questo è bellissimo, facciamo bene il bene, nel nome di San Vincenzo, con fede viva, come aggiungeva lui.